Oggi volevo riprendere un discorso che ho fatto qualche tempo fa, cioè sui falsi miti. Mi è capitato giusto un falso mito che è arrivato qualche giorno fa. Mi hanno taggato in alcuni post su LinkedIn e anche su un gruppo di Facebook per chiedermi cosa ne pensavo di questa notizia. Sarà vera? Sarà falsa? E cosa diavolo stava succedendo? La notizia è sulla Consent Mode, che sembra che Google abbia trovato un bug mostruoso e quindi abbia posticipato di un anno la parte di implementazione della nuova Consent Mode. Allora, il concetto è semplicemente questo, come già spiegato nel webinar che ho fatto gratuito e come ho spiegato nel corso che sarà rilasciato entro questo fine settimana. E di cosa si parla? Si parla che Google ha sì creato una nuova gestione della Consent Mode per gestire correttamente la parte di advertising, soprattutto sulla parte di consenso da parte degli utenti. Quindi se l'utente mi dice di sì, posso utilizzare i suoi dati per una finalità di advertising. Se l'utente dice di no, non utilizzerò i suoi dati, ma in qualche modo porto comunque a casa il fatto che ci sia stata una conversione grazie a quella campagna e quindi, diciamo, fa acqua nel suo mulino perché porta acqua nel suo mulino perché di fatto riesce a capire se effettivamente le campagne stanno andando bene oppure no. E il concetto della nuova Consent Mode non è legata perché Google si è inventata questa cosa e quindi vuole andare a gestire a livello tecnico un'implementazione migliore, ma tutta questa cosa è nata dalla Digital Market Act, cioè una legge europea che entrerà di fatto in vigore a marzo di quest'anno. Quindi Google è stato segnato come gatekeeper insieme ad altre aziende come Amazon, Facebook, TikTok, Meta e Microsoft dove devono stare sotto a determinate leggi europee. Quindi se anche ci fosse questo problema tecnico, di fatto se Google non fa qualcosa nella gestione dei consensi entro marzo 2024 si beccherà una bellissima multa. Una multa che, se non ricordo male, va anche fino al massimo del 10% del fatturato globale dell'azienda. Quindi immaginatevi che multa potrebbe prendere Alphabet a livello proprio di multa. Quindi è una cosa fuori di testa. Quindi dal mio punto di vista è una minchiata mostruosa, detta terra terra. Perché? Perché di fatto non c'è nessuna documentazione, non c'è nessuna news ufficiale, ho cercato questa cosa. Quindi il fatto che voi leggiate un post scritto da uno o più famosi, o magari un post particolare o un articolo, dovete sempre andare a capire intanto le logiche che ci stanno dietro. Ma magari non potrebbe essere il vostro caso, ma andare a capire se c'è qualcun altro che ne sta parlando, ma non semplicemente un copy in colla di quello che state leggendo, ma se c'è una fonte ufficiale che va a parlare di questo. Alcuni mi hanno detto, eh ma è sparita la data, cioè il mese, quindi prima c'era scritto marzo da qualsiasi parte, anche a livello di documentazione, adesso si parla solo di 2024. Il pop-up su Google Ads, l'alert che arrivava è sparito, non c'è più il fatto che bisogna per forza andare sulla parte di Consent Mode versione 2 entro marzo 2024. Se anche fosse vero che hanno fatto dietrofronto sull'implementazione del Consent Mode, dovranno implementare qualcos'altro entro marzo 2024. A meno che non abbiano impugnato questa legge europea e ci sia un cavillo, una gestione legale che di fatto mette in pausa la possibile multa che arriverà. Quindi vedo questi scenari, però il fatto che Google comunque abbia già implementato, perché a livello tecnico c'è, è presente, ci sono già dei parametri che vanno a gestire questa implementazione, è già presente sia su Google Analytics sia su Google Ads, è già presente all'interno di Google Tag Manager, quindi non credo che ci sarà un dietrofronte e una cancellazione di tutto questo. Se c'è un problema tecnico sul commercial link, che comunque è una gestione del cookie, quindi non vedo neanche a livello tecnico chissà quale problematica di fixing entro qualche settimana e personalmente non ho visto problemi legati a questa parte, ma il fatto che non trovi nessuna comunicazione, nessun altro posto, nessun'altra cosa che ne parli, questo è già un primo segnale. Quindi morale della favola, al di là del contesto di dettaglio del farciomito, il mindset, come vi dicevo, è sempre quello di dire, prendo una notizia, indipendentemente se la fonte è autorevole oppure no, se è autorevole magari qualche credito in più gliela do, però di fatto bisogna sempre andare a verificare se quello che è stato dichiarato è effettivamente vero, vedi anche come nuove funzionalità, nuove features o quello che arriverà. E quindi di fatto ragazzi dovete sempre ragionare con la propria testa e se non siete al 100% sicuri, mai parlare con assoluti, quindi mettere sempre in condizione che potrebbe essere vero come no. Quindi una cosa che io avrei fatto è, ho sentito sta cosa, voi avete altro riscontro, perché potrebbe essere una cosa che ci dà più fiato nell'implementazione. Ma in realtà, dal mio punto di vista, l'implementazione andrebbe comunque fatta, perché è una cosa che volente o non volente arriverà. Quindi questo è tutto per oggi, ci vediamo nei prossimi giorni. Come vedete ho il cappello della Super Week perché fra un paio di settimane sarò a Budapest in Ungheria a parlare di Google Analytics 4 BigQuery all'evento della Super Week. Quindi se ci sarete là, vi aspetto là. Ciao, a presto!